Aset Spa è un'azienda valida che rende e che lavora bene. È soddisfatta la presidente Lucia Capodaglie che ha presentato alla stampa il bilancio 2015 approvato all'unanimità dal Consiglio di Amministrazione. Il documento è stato chiuso con un fatturato che ha toccato 35 milioni e 600 mila euro con un incremento di poco superiore all'1% rispetto al 2014 nonostante un calo medio delle bollette di rifiuti che a Fano è stato del 2%. L'utile al netto delle imposte è salito a 2 milioni e 600 mila euro con un incremento del 68,6% rispetto all'anno precedente. I nuovi investimenti saranno sia per il sistema idrico integrato quindi sulla depurazione, sull'ampliamento delle reti già avviati gli investimenti per quanto riguarda la metanizzazione attraverso la nostra controllata AS e tutti gli investimenti relativi al ammodernamento del parco mezzi igieno ambientale e ulteriori investimenti sulla discarica di Monteschiantello. Chiaramente nel futuro con il nuovo piano di aggregazione e quindi di fusione con la patrimoniale contiamo di introdurre anche quello degli investimenti sugli impianti. Si tratta di risultati al di sopra di ogni aspettativa, ha commentato Capodagli, raggiunti anche con l'accantonamento record di 350 mila euro per il fondo anticrisi a sostegno delle famiglie disagiate e secondo gli analisti Plimsoll, Asset Spa è tra le 25 aziende più redditizie nel settore della raccolta di rifiuti solidi non pericolosi. I dati si riferiscono ad uno studio eseguito su 616 aziende del settore. Ottimi risultati sono stati raggiunti anche per la raccolta differenziata che ha raggiunto quasi 73%. Fano infatti è stato premiato come primo comune italiano nella fascia tra 50 e 100 mila abitanti con la migliore prestazione in termini di raccolta differenziata, di avvio al riciclo e di risparmio in emissioni di CO2 equivalente. Per quanto riguarda la produttività di Asset Spa invece, è stato aumentato il rendimento del fattore umano nonostante la riduzione del personale, sono calati i costi delle consulenze e migliorate le attività legate all'energia grazie ai nuovi sistemi e all'aggiornamento degli impianti. Sono aumentati inoltre i conferimenti in discarica. Ora però l'attenzione è tutta focalizzata sulla fusione con Asset Holding. Infatti dopo l'esame del bilancio da parte dell'Assemblea dei Comuni Soci si passerà al piano di fusione. Proprio dal risultato di quest'anno, di questo esercizio, abbiamo la consapevolezza che 869 mila euro sarebbero stati a disposizione degli enti comunali come utile dell'esercizio se solo avessimo avuto in corpo le reti.